I ragazzi imparano soprattutto giocando e l'arte del riciclo, oltre a stimolare la creatività, non può che essere portatrice di regole fondamentali per la società. Per questo l'associazione Artes Mundi ha deciso di realizzare il progetto Riciclandia a scuola di creatività in collaborazione con l'amministrazione comunale. Gli studenti dell'istituto comprensivo dello Spirito Santo di Cosenza, quindi, attraverso la storia del mago di Oz, saranno guidati nell'apprendere l'arte bella e utile del riciclo degli oggetti. Questo progetto, intanto ringraziamo la Chiesa Valdese perché è grazie all'otto per mille della Chiesa Valdese per cui abbiamo la possibilità di sperimentare questo progetto. È sempre un progetto sul riciclo creativo che noi già abbiamo avviato da un bel po' di anni e verrà effettuato all'interno di una scuola elementare, in questo caso l'istituto comprensivo Spirito Santo, è una quinta classe, quindi verrà interessata una quinta classe. Però questa volta faremo un laboratorio di riciclo legato ad una storia, ad una favola, che è quella del mago di Oz, quindi riprodurremmo alcuni personaggi e un po' la storia del mago di Oz attraverso il riciclo. Grazie. 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 Grazie.